Il flusso delle principali notizie di politica nazionale per quattro giorni partirà dalla Puglia. Sarà molto probabilmente l'effetto della presenza da oggi a domenica a Manduria di gran parte del governo nazionale, a partire dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, passando per ben otto ministri. Saranno ospiti dell'evento Forum in Masseria, l'Italia che verrà, prospettive e azioni da mettere in campo per costruire il paese del futuro, organizzato nella Masseria Lireni da Bruno Vespa. Questa sera l'anteprima, a partire dalle 19, con la premier Meloni che dialogherà con il giornalista Rai sullo stato dell'arte delle politiche del nostro paese e sui possibili scenari. Domani dalle 15 al via la serie di incontri con i ministri e gli altri ospiti. Al focus le nuove sfide del settore agricolo, alla luce degli obiettivi del PNRR, prenderà parte il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Ancora all'incontro prossimità, innovazione e uguaglianza, le parole chiave della missione salute del PNRR, il ministro della salute Orazio Schillaci. Per parlare del tema la strategia italiana in un contesto geopolitico in cambiamento, il ministro della difesa Guido Crosetto. Sabato sarà la volta dei ministri delle infrastrutture dei trasporti, Matteo Salvini, e dell'ambiente della sicurezza energetica, Gilberto Picchetto Frattin. Domenica saliranno sul palco di Manduria il ministro per gli affari europei, il sud delle politiche di coesione, il PNRR Raffaele Fitto, il ministro della cultura Gennaro San Giuliano e quello delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Tanti altri ospiti fino a domenica tra i quali il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e il presidente Anci e sindaco di Bari Antonio De Caro.